ma lei sembra normale quello ma lei pensa che io ho problemi che lei ma lei sembra normale che ci sia scritto opere e poi non sono opere non sono manco ma lei lo chiedo lei lo sa ma lei lo sa se sono opere o no io non lo so io ho dei documenti dove mi attestano documenti che dicono che sono opere che è giusto così dobbiamo dobbiamo garantire l'informazione no sono un giornalista sì di serie a pure sono anche artista e scrivo anche libri lo sapeva non ho avuto l'onore di cosa fa il direttore vero no 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 assolutamente che tristezza davvero molta lei non si rende conto di quello che ha scritto però renderà conto non a me alle istituzioni cosa fa il direttore dell'accademia vero no 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 assolutamente no che tristezza grazie 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 grazie